YouTube per 4 minuti e il traffico di tutto il web mondiale è calato del 40% quindi non è solo U-Porn che fa aumentare gli utenti anche io credevo, mi sono stupendo esiste anche Google, diciamolo perché ecco ma quindi 40% e meno e l'altro 60% in maconese e in maconese l'ocqua e lo secolo i Gianni cosa guardano? il comandante cosa? io guardo foto e video degli aerei 15 e 31 minuti andiamo avanti con la prima unità